Ciao a tutti, oggi prepareremo gli involtini di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono melanzane tagliate a fette, sale, pepe, pan grattato aromatizzato, prosciutto cotto, scamorza, olio evo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, mettere sulle melanzane il sale, pepe, il pepe e un filo d'olio. La stessa cosa abbiamo fatto nel Varoma. Chiudere il boccale con il coperchio, posizionare il Varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Le melanzane sono cotte, lasciare intiepidire. Panare le melanzane nel pan grattato. Mettere il prosciutto, il formaggio ed arrotolare creando l'involtino. Posizionare uno stuzzicadenti e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Irrorare con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Gli involtini sono cotti, impiattare e servire. Involtini di melanzane, grazie e alla prossima ricetta! Grazie. 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 Grazie.